Giovedì 26 giugno 2014, grande successo all'Auditorium Testoria Palazzo Lombardia per il workshop organizzato da Action Group dal titolo Involucro Edilizio. Sì, noi siamo molto soddisfatti di questo evento, abbiamo circa 100 contatti al desk e crediamo che il rapporto con i tecnici liberi professionisti debba sempre crescere nel rapporto e nel ricercare un protocollo comune per progettare l'intervento, controllarlo in corso d'opera e collaudarlo a fine intervento. È un modo per contattare direttamente i progettisti anche in maniera molto veloce perché come vediamo passano e quindi ci consultano in maniera proprio molto rapida, però poi prendendo nota del passaggio e conseguentemente poi o loro ci ricontattano o noi ci organizziamo sul territorio, è un modo per essere presenti e rivolgare conseguentemente il nostro know-how, la nostra tecnologia e quindi essere presenti nel mercato. Per noi è sempre molto importante conoscere più progettisti, far conoscere i nostri materiali che ancora oggi possiamo pensare che sono ancora sconosciuti e quindi comunque per noi è sempre importante venire a questi eventi con una grande partecipazione di architetti per far conoscere proprio le nostre soluzioni. Siamo ritornati con vero piacere e l'attenzione e il riscontro che abbiamo è eccellente e quindi assolutamente un'esperienza positiva che contiamo anche peraltro di ripetere prossimamente. Fin da subito gli appuntamenti sono stati molti, abbiamo una lista di appuntamenti fissati, circa una cinquantina di contatti, quindi sono per noi molti, so che gli iscritti sono più di 500, quindi ho visto che la sala è piena. Per noi è un investimento importante, abbiamo già dei ritorni, abbiamo partecipato anche l'anno scorso e abbiamo visto che di fatto questo è un ritorno in termini sia di visite, di contatti ma soprattutto ovviamente di fatturato e di vendite e quindi per noi è sicuramente un'attività da ripetere. Che cosa rappresenta questa iniziativa di infoprogetto, di unire aggiornamento e business? Lo trovo straordinario, trovo che sia l'unica possibilità per risolvere il problema di queste professioni, trovo che sia l'unica possibilità per fare in modo che le aziende entrino in contatto con gli utilizzatori e trovo che sia l'unico modo per fare il sistema. In questa occasione per noi è la prima volta durante questi eventi formativi ma abbiamo trovato quello che ci aspettavamo, cioè una partecipazione attenta, un numero considerevole di persone sicuramente che ovviamente fa piacere, ci siamo mantenuti abbastanza impegnati durante la mattinata ma anche una partecipazione attiva, domande, interesse, quindi siamo molto soddisfatti.